Non interrompere i piaceri della vita proprio sul più bello, scopri la sensazione di un vero contatto, con il profilattico Durex Real Feel, per un piacere fino alla fine. Mi sento bene perché il mio sorriso è sano e bello, puoi sapere il mio sereno. AZ Ricerca, da anni di ricerca, AZ Pro Expert protegge e rinforza i denti dalla radice. Perfetto, c'è la Z Ricerca. Che video che fuori, avrò 500.000 ai like. Quando smette, smette. 40 secondi, senza smette. Scegliere un'auto è davvero così complicato? No, Volkswagen, anticipo zero. Valore futuro garantito per tutti. Volkswagen Hub con anticipo 0,149 euro al mese, anche in sabato in domenica. Un minuto e 10 che non ha smesso. Questa sera alle 21.25, sul 9. Fratelli di Croz, da Torno Live, da venerdì 22 febbraio alle 21.25, sul 9. 8.25, sul 9.30, sul 9.30, sul 9.30, sul 9.30. Allora, con le padelli a salsi, oggi c'è arrabbiata, patriciana, carbonara, pompo d'oro. Se vogliamo grigia, caccia e pepe, la grigia, caccia e pepe, la carbonara. Stai ancora un po' lei, eh? Due minuti. Bistecchi, rombati di mirella, vetto di pollo, braciore, salsiccia, rossicini, rossicini. Boh, ma dico smetto perché ero stanco di, 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 eh? Il bianco per smettere, com'è? Per spegnerlo? Com'è per spegnerlo, boh? Per finire il video.